Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Leggo sull'Huffington Post, Huffington Post ho detto giusto, speriamo di sì, online, sui social media, che Camillere, il papà del commissario Montalbano, fa un coming out devastante. La nostra generazione ha fallito. La distruzione della solidarietà tra uomo e uomo è gravissima. E tra secolo, anzi, per la verità, per dirla con mia moglie, mi parte l'embolo. E già, perché proviamo a ragionare sul perché siamo arrivati a questo. Quali sono state le ragioni per cui siamo arrivati ad avere un odio che trassuda talmente tanto che spesso e volentieri le discussioni online sono soltanto il desiderio di spaccare ossa. Vedi da come le persone si pongono che non cercano neanche di capire, di ragionare, o anche soltanto di proporre la loro opinione. No, in qualche modo affermano, asseriscono, massacrano con la loro opinione. Se non la pensi così, sei un imbecille che non merita di vivere. Questo è il risultato. Ma di che cosa? E già, perché a me parte l'embolo, perché fondamentalmente credo che questi cattivi maestri, cattivi maestri che, come ha scritto Papa Benedetto XVI, non proprio un imbecille. Nell'ultimo documento, ho pubblicato questi appunti presi come punto di partenza, come spunto per migliorare la situazione della Chiesa e del mondo, il 68 ha distrutto un sacco di cose. E questi cattivi maestri, che sono stati promotori del solo diritto, del capriccio, del io faccio quello che voglio, io sono mio, io sono mia, di schieramento di classi contro classi, di posizioni di durezza inenarrabile. Adesso vengono a farci la morale e si accorgono che tutto quello che hanno creato, questa fiera del desiderio compulsivo, questa fiera del diritto senza nessun dovere, sta danneggiando la società? Ma va? Ma te ne accorgi solo adesso? Ti accorgi solo adesso che poi questa roba qui è all'origine del razzismo? E qui so che saranno un sacco coloro che non saranno d'accordo, ma io lo affermo, questa roba qui è all'origine del razzismo, perché il razzismo, che evidentemente ha radici molto più profonde, aveva solo bisogno di appoggiarsi su qualcosa che dicesse i miei diritti sono più importanti dei tuoi, quello che io voglio è più importante di quello che vuoi tu, e la razza diventa un pretesto. E adesso, invece che augurarvi buon caffè, per calmarci tutti a cominciare da me, non posso che chiudere dicendo buona camomilla a tutti!